Buongiorno a tutti, la lezione di oggi, che è la prima di storia che faremo in questo periodo, riprende da dove ce l'avamo fermati in storia, e cioè alla fine della Prima Guerra Mondiale. Vedremo cosa è successo dopo questa guerra nelle varie nazioni, cominciando naturalmente dalla nostra povera Italia, cosa succede in Italia dopo la Prima Guerra Mondiale, succede il fascismo, ma bisogna spiegare perché e che cos'è il fascismo. La figura di Benito Mussolini, l'abbiamo già visto nel 1914, Mussolini entrare nell'agone politico italiano, anzi nella storia italiana, in qualità di interventista, che vuol dire, Mussolini era un socialista, direttore del giornale socialista Lavanti, appartenente quindi a un partito che era fortemente contrario alla guerra. I socialisti consideravano la guerra un modo per mandare i poveri a combattere, a morire per gli interessi dei padroni. Il socialista Mussolini non la pensava così, e riteneva che la guerra fosse invece l'unico modo per forgiare la classe operaia e lavoratrice italiana, e renderla capace di diventare padrona del suo destino. Uscì quindi dal partito socialista, fondò un suo, un altro giornale, Il Popolo d'Italia, e durante tutta la guerra ci fu questa fortissima, caratterizzata anche da odio, contrapposizione tra i socialisti veri, che rimanevano fortemente contrario alla guerra, e addirittura giustificavano i disertori, e Mussolini, che invece era lui stesso intervenuto, si era intervenuto come volontario e propagandava la guerra. La guerra finisce nel 1918, l'Italia la vince, è nella coalizione che vince, e però dopo la guerra subisce le conseguenze simili a quella di una nazione sconfitta. E perché? Per vari motivi. Innanzitutto l'Italia, tra le grandi potenze vincitrici, e cioè Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e appunto Italia, era la più debole, ed era quella che aveva ottenuto di meno dalla conferenza di pace, il famoso trattato di Versaglie e i trattati collegati a quello di Versaglie. Aveva ottenuto Trento e Trieste le sue principali rivendicazioni, ma non aveva ottenuto altro che pure voleva, e cioè i territori della Dalmazia, che si trovano in quella che oggi si chiama Croazia, ed erano abitati allora in parte anche da italiani, c'era una popolazione mista, italiana e croata-slava. Non li ottenne l'Italia questi. Questo fece nascere in Italia il mito della cosiddetta vittoria mutilata, quella espressione retorica che allora andava sui giornali e sui media, che voleva dire che appunto l'evitore italiano non era servita quasi a nulla, e questo esacerbò il nazionalismo, ossia quella corrente politica italiana che già da prima della guerra rivendicava l'unione di tutti gli italiani per lingua, ma di tutti coloro che parlavano italiano sotto un'unica unità statale. Ed era il nazionalismo un movimento di destra, cioè un movimento appoggiato prevalentemente da classi medio-alte e borghesi, e anche dai militari. Cosa c'entra Mussolini? Mussolini c'entra perché all'indomani della guerra, e cioè nel 1919, Mussolini fonda il suo nuovo soggetto politico, il fascismo, i fasci di combattimento, un movimento molto aperto, non era ancora un vero partito, ma un movimento dove in qualche modo chiunque poteva entrare fosse d'accordo con le loro idee. E quali idee erano? Erano idee che per la prima volta nella storia italiana fondevano il socialismo, da cui Mussolini proveniva, seppure del tipo particolare di Mussolini, e il nazionalismo. Cioè l'obiettivo proclamato dal fascismo era quello di modernizzare l'Italia, renderla più giusta, più equa, far migliorare le condizioni delle classi lavoratrici, eccetera, e insieme, però, nello stesso movimento, anche promuovere la potenza della nazione italiana e addirittura la sua espansione su altri territori. Quindi non solo nazionalismo, ma persino imperialismo. Il fascismo è, se vogliamo ridurlo alla sua essenza, quindi questo, l'incontro o la fusione di due idee novecentesche e ottocentesche, che sono il socialismo e il nazionalismo. Perché il fascismo ottenne questo clamoroso successo? Innanzitutto va detto che all'inizio non ne ottenne alcuno di successo, perché nel 1919, l'anno in cui nasce il movimento fascista, ci si tennero in Italia delle elezioni generali. Elezioni importanti, perché erano le prime a suffragio universale maschile, in cui cioè tutti i cittadini maschi potevano votare per il suffragio universale, anche femminile, bisognerà aspettare il 1946. Però, anche così, potevano votare anche i poveri, quindi erano le prime elezioni dove si poteva esprimere il popolo. E chi votò il popolo non votò il partito fascista, che prese dalle percentuali minuscole, votò invece il partito socialista, il vecchio partito socialista, e un nuovo partito cattolico, soprattutto votato dai contadini, che si chiamava Popolari, il partito popolare. Erano questi i protagonisti delle elezioni e i vincitori. Nello stesso momento, però, cioè nel 1919 e anche nel 20 e anche nel 21, il cosiddetto biennio rosso, c'erano anche delle grosse agitazioni sociali, sia contadine che operaie. I contadini, ricordiamoci che i contadini, erano stati loro a combattere principalmente sul fronte, avevano subito centinaia di migliaia di morti, milioni di mutilati. E gli operai volevano ovviamente migliorare le loro condizioni, non accettavano più, dopo tutto quel bagno di sangue che avevano pagato loro principalmente, non accettavano più di vivere come prima, e cioè con diritti assai ridotti. pensiamo in particolare per esempio ai braccianti. Abbiamo già visto i braccianti che erano contadini senza terra, che non avevano altra scelta che quella di vendere il proprio lavoro a qualsiasi condizione, da fame, oppure se non volevano, se non accettavano questo, emigrare o darsi al brigandaggio. Questo era il materiale sociale che era in rivolta. Il Biennio Rosso fu una lunga sequela e sequenza di ribellioni anche violente, va detto anche questo, anche violente, esistevano le squadre che esercitavano anche atti di violenza, in tutta Italia, ma specialmente al nord, e che volevano la rivoluzione. Anche perché, ricordiamoci, che nel frattempo, in questi stessi anni, c'è la rivoluzione russa, iniziata nel 1917, e proseguita come guerra civile, fino al 1922. Quindi c'era l'esempio della rivoluzione proletaria russa, che molti, anche in Italia, volevano seguire. C'erano stati altri tentativi, anche in varie nazioni, di fare altre rivoluzioni, e in Italia c'era chi pensava di fare la stessa cosa. Tant'è vero, che in questo periodo, e cioè nel 1921, un'altra parte del Partito Socialista, si stacca, dopo Mussolini, stavolta però con un'idea diversa, cioè quella di fare la rivoluzione come in Russia, di seguire l'esempio russo, e di fare una rivoluzione proletaria, anche con mezzi violenti, e anche con mezzi illegali. Questo si chiama il Partito Comunista, che nasce nel 1921, con vari fondatori, il principale dei quali è Antonio Gramsci, giornalista nato in Sardegna, sardo, giornalista autore di vari giornali per gli operai, e anche importante filosofo. Quindi la situazione nel 1921 è questa. Abbiamo grandi agitazioni sociali, abbiamo la nascita di un nuovo partito, quello comunista, che vuole fare la rivoluzione, e abbiamo due nuovi partiti di massa, popolari e socialisti, e adesso anche i comunisti, che in qualche modo vogliono, sia pure in modi diversi, cambiare profondamente le cose. E ora rientra in gioco Mussolini. Perché Mussolini, in questo contesto, seppure, o meglio il fascismo, seppure nato così piccolo, improvvisamente acquista un enorme consenso sociale? Perché la risposta sta qui, in questa foto, che vi mostro. Vedete? Questi qua, questi uomini in camicia nera, sono gli uomini della milizia fascista, ovvero sono gli uomini delle squadre, violente, delle cosiddette, che rappresentano il cosiddetto squadrismo. Lo squadrismo è un fenomeno consistente nel fatto che molti fascisti erano armati. Siamo appena usciti da una guerra, molta gente era armata in Italia, anche negli altri partiti. Nel partito fascista, come in altri partiti, c'era una milizia di gente armata, di uomini armati, che indossavano una camicia nera a modi divisa, per riconoscersi, e cosa fecero? In questi anni esercitarono una risposta violenta alle agitazioni operaie e contadine, specialmente nel nord, cioè per la prima volta qualcuno rispose con le armi agli scioperi, agli scioperi contadini e operai, alle dimostrazioni violente o non violente e alle rivendicazioni di qualsiasi tipo provenienti dai salariati e dagli operai e dei contadini. Questa azione si esercitò nello stesso periodo, cioè tra il 20 e il 22. Le squadre fasciste, in modo del tutto illegale, ma tutto era illegale, sia gli uni che gli altri erano illegali, fecero una controviolenza alla violenza esercitata da quegli altri, cioè dalle sinistre. Perché lo fecero? Perché abbiamo detto che nel fascismo c'era una componente socialista, sì, ma c'era anche una componente nazionalista e quest'ultima era appoggiata dalle classi proprietarie, possidenti e borghesi, e quindi la classe proprietaria italiana si ritrovò ad appoggiare questo movimento nel quale trovava l'unico possibile tutore dell'ordine, di quello che loro credevano essere l'ordine, cioè l'unico argine alla rivoluzione. Per questo il fascismo acquistò consensi, perché era considerato l'unico argine possibile alla rivoluzione.